ma la picciotti sono benvenuti in questo nuovo video ci siamo qua raga in minecraft survival games siamo il server di badlion qua c'è una cassa che vorrei prendere ci andiamo anche a killare qualcuno possibilmente anzi no perché pensavo che tipo fosse venuto qualcuno da sta parte ed è effettivamente così però non ci vuoi di targhettare player a random quindi insomma vado al mio chest tutto da quella parte vediamo che cosa riusciamo a combinare swagfield estate ma perché odio madonna non la sopporto però vabbè ci si prova in ogni caso e c'ho un tizio dietro ma no se n'è andato forse buonissimo apriamo sta porta apriamoci le bellissime casse ok ho parlato forse un po troppo in fretta probabile no vabbè dai nemmeno più di tanto abbiamo una spada che è decente perlomeno ok apri qua ok sono messo bene dai ok addirittura un arco cambiamo qua raga se si sente il rumore del fondo non ci posso fare nulla quindi amen eh comunque in ogni caso io avevo trovato tipo un arco esatto 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 buonissimo buono come er pane proprio questi si fightano ok non ho ben capito se è un team o meno si è un team raga eh no 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 ok ora mi hittano vabbè non ci sono problemi eh cioè non non ti credere bro fuori ok no 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 bro 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 via ok ok sono sopravvissuto devo soltanto rigenerare 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 raga perché sì poi per il resto è a posto ok nevo di qua ok potrei tipo piazzargli sta cosa sta ragnatela di qua no ora mitta lo sapevo e c'è il resto è a posto di bow ok via no 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 devo anche mangiare madonna devo anche mangiare come faccio come faccio come faccio come faccio devo tipo incontrare qualcuno per forza perché non so se ho il tempo per mangiare ok ok mangia ok perfetto ce l'ho fatta penso rigenero e ti killo mate mi dispiace ma purtroppo è la vita dei survival games adesso anzi mate faccio il tumorazzo in acqua oh 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 mi dispiace che c'è in team metti lamenti pure mi dispiace ma davvero sai quanto mi dispiace per proprio per un cazzo ciao bro vado a prendermi il supply ok mancano 11 secondi e la c'è stondissimo che è messo male quindi magari michael andrambi sapete un po' vai vieni qua no oh bro e che cazzo muori oh esatto apri 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 veloce 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 prima che viene qualcuno dai e dai e ce la vai ok bam 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 ok ottimo 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 adesso ci andiamo a cercare l'altro tizio che dita io direi proprio di sì eh però non prima di esserci fatti un fns ok adesso sì che possiamo andare a comandare col trattore intagenziale allora vediamo dove posso andare non so manco in quanti player siamo siamo in un bel po' madonna questa cassa l'hanno presa? sì allora se riesco vado verso il centro però mi devo orientare bene perché al momento non so manco dove sono vi dico la verità però penso che andando verso questa direzione sì 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 esatto esatto siamo al centro ottimo devo andare da sta parte vero? mi pare proprio di sì vediamo se c'è qualcuno proprio così da killare magari eh sì ci sta il tizio di poco fa madonna che fa? crafto? sì bravissimo mi faccio pure delle freccioline e siamo a posto raga siamo a posto mettiamo questo qua ehi reacts tu 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 dai bro vieni qua sei sei abbastanza nabbo vieni muorici eh poi arriva il tizio a cleanare troppi troppi player per i miei gusti eh un po' troppi però si scannano io clean cazzo me ne frega clean tutti vai 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 bravissimo fuori no 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 oh bravo bravo bravissimo bravo bravissimo bravo bravissimo bravo 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 ok devo piazzare tipo un fns se riesco in acqua in acqua in acqua ottimo in acqua madonna no cazzo non ci sono riuscito vabbè lo kill lor dai bro dai riax dai riax dai riax dai mate vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua che ci muori dai dai nabeto vieni qua dai vabbè vabbè non ci sono problemi alla fine ehm toh ti regalo sta roba mi faccio un'altra fnessa ok raga aspettiamo soltanto il dm adesso e vediamo che cosa riusciamo a scombinare però quasi quasi tipo non lo so ah non ho frecce ok gli ho tirato un hit abbastanza decente il tizio ora ho paura che sia però molto vicino a me tipo là perché qua ci sta uno ok fortunatamente non è così va benissimo bravo 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 kill lor kill lor kill lor kill lor vieni qua tua fuori ok dai che ci vingiamo pure questo SG è abbastanza easy ah ok uezzo sarebbe uezzo uezzo vabbè quello che è in ogni caso aspettiamo magari risposta perché si mi fa molto piacere ricevere risposte da sti tizi qua in ogni caso ragazzi spero che il video vi sia piaciuto nel caso dovesse essere così vi invito a lasciare un mi piace o commento e che dire da Narciso è tutto ciao a tutti